La cosa più bella è vedere ancora Bigio Milesi che si alza e come era abituato a fare si avvicina un microfono e in questo modo lui sapeva trattenere per lungo tempo a qualsiasi pubblico e tutti i piatti dell'Italia. Un applauso a questo personaggio! Un applauso! Grazie, ti dico semplicemente che sono conosso perché questi ragazzi sono nuovi, le mie tattiche che non credevo che fossero così ben organizzati. L'ho sentito anch'io dai cuori ai corsi, ma questo vale la pena di sentirlo. Grazie!